Materab è un membro del distretto Puglia Creativa e in questi due giorni abbiamo preso parte per presentare un nostro progetto, il progetto Breaking the Desk, che si è interrogato sul ruolo degli artisti e dei creativi rispetto a contaminazione per imprese tradizionali e la pubblica amministrazione. Ieri e oggi ci sono stati dei panel interessantissimi rispetto a quanto possono le industrie culturali e creative avere un ruolo importante nell'economia regionale attraverso sistemi di organizzazione come i cluster e questo è uno dei risultati che il progetto Chimera vuole raggiungere, per cui si sta lavorando sia qui in Puglia che in Basilicata per la costruzione o il rafforzamento di cluster delle industrie culturali e creative. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!